scusatemi ragazzi stavo parlando come un pirla ma l'audio non mi era partito vedete questo inizio di video così ci sono circa tre minuti di video un pochino meno di tre minuti tre minuti tre minuti tre minuti in mezzo di video in cui io parlo bla 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 senza dire niente all'inizio del video dopo la sigla stavo dicendo praticamente che dopo dopo il fallito tentativo di andare a ranga ross siamo andati ad alessandria siamo ad alessandria abbiamo vinto il primo turno il primo game scusate il primo game del match contro stefano napolitano abbiamo avuto una possibilità di breccare abbiamo breccato siamo in vantaggio andiamo a servire per il 7 mi chiedo scusa di nuovo se l'audio della mia voce non c'era quindi nei primi tre minuti vedrete me che parlo ma non sentirete nulla da tre minuti in poi quando si arriverà a questo punto ragazzi la mia voce tornerà ciao 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 love 15 15 all 15-30 30 all 30-40 game player 2 player 2 leads one game to love one game to love 15 love 15-30 minuto 3 minuti 3 minuti in mezzo di video in cui io parlo bla 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 senza dire niente all'inizio del video dopo la sigla stavo dicendo praticamente che dopo dopo il fallito tentativo di andare all'orangaross siamo andati ad Alessandria. siamo ad Alessandria abbiamo vinto il primo turno il primo game scusate il primo game del match contro Stefano Napolitano abbiamo avuto una possibilità di breccare abbiamo breccato siamo in vantaggio andiamo a servire per il set mi chiedo scusa di nuovo se l'audio della mia voce non c'era quindi nei primi tre minuti vedrete me che parlo ma non sentirete nulla. da tre minuti 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 quando si arriverà a questo punto ragazzi la mia voce tornerà bene eccoci qua è tornata la mia voce ragazzi finalmente si ritorna siamo sul 1.05 in gomma dopo il break e sul 15.0 c'è andata bene questo scambio ultimo che abbiamo visto perché Napolitano l'ha gestito veramente bene ci ha messo un po' alle strette ma poi ha sbagliato. adesso ci siamo doppio fallo ovviamente si festeggia subito il ritorno della mia voce con un bel doppio fallo alla grande chiamo di rifarci subito buono ci rifacciamo subito 30 15 siamo a 2 punti dal 7 dicevo anche quando parlavo e non mi sentivate sentivavate insomma che insomma dovrebbe essere un pochino più semplice qua la situazione perché ultimamente il nostro buon cingomma è abituato a giocare con con gente del calibro di Gasquet di Caruso insomma con giocatori un pochino più importanti questo nastro 30 pari un pochino insomma più forti e quindi dovrebbe essere un pochino più semplice affrontare questo torneo per per noi questa questa la chiedo perché era dubbia eh no invece era giusta fuori aveva ragione il giudice di linee ragazzi brutta cosa parla del contro break subito per napolitano ma ho bisogno delle nostre prime video di servizio cattive brutta ah eh lo sapevo c'è contro break ragazzi uno pari uno pari dunque peccato cioè non ci voleva ci ha preso proprio male questa cosa non ci voleva per niente si pensava di andare già in vantaggio di un 7 a 0 invece ci ritroviamo qua ancora nel primo 7 sull'uno pari break e contro break nel match al momento vediamo che succede adesso dopo questo bello scambio che sta nascendo sbaglia napolitano 0 15 dunque lunga era larga 15 pari bravo napolitano a buttarci in tribuna a colpire la palla praticamente seconda di servizio picchiamo subito buono 15 30 no brutto errore 30 pari poteva andare a in vantaggio avere due palle break che subito un'altra volta napolitano fuori e fuori buono ragazzi 30 40 una palla break ce l'abbiamo comunque ce l'abbiamo lo stesso speriamo di approfittarne subito sarebbe veramente buono provare a tornare a servire per il set senza passare per il tie break buono il nastro la ferma ci consegna il break per la seconda volta consecutiva napolitano e siamo 2 a 1 servizio nostro dobbiamo servire meglio di prima assolutamente il nastro di cuovo ci dà una mano 15 0 è andata bene bella roba abbiamo la palletta corta la prende napolitano allora qua c'è un bel lungo linea che non va che non va ragazzi 15 pari cosa abbiamo sprecato peccato dobbiamo rifarci subito però eccolo qua bello bel dritto bel rovescio scusate di cingomma 30 15 siamo a 2 punti del set di nuovo a brutta questa lob dalla distanza non arriviamo 30 pari peccato peccato ci ha fatto andare a rispondere napolitano veramente in modo brutto e qua per forza non potevamo fare niente 30 pari peccato ragazzi peccato bello questo 40 30 set point cingomma ottimo veramente ottimo andiamo per un attimo di scatto il doppio fallo la è mancato veramente poco buono l'errore ci consegna il set ragazzi 3 a 1 cingomba 3 a 1 cingomba finisce il primo 7 vantaggio per noi vinciamo noi quindi si ripartirà dal secondo 7 abbiamo una buona percentuale di prima di servizio stranamente superiore a quella del nostro avversario penso che sia una delle prime volte se non addirittura proprio la prima 0 s contro 1 del nostro napolitano ma noi per fare se purtroppo dobbiamo ancora migliorare la nostra potenza di servizio errori gratuiti 5 vincente 5 insomma diciamo che è abbastanza bilanciato il nostro gioco di oggi ragazzi quindi cingomba 3 napolitano 1 primo 7 va a cingomba si riparte dal secondo e via e via ragazzi sbaglia la volet napolitano 0 15 vorrebbe un buon secco 2 a 0 per il nostro morale ragazzi per il morale del nostro cingomba non sarebbe per niente male 0 30 questo è buono no cingomba non sarebbe troppo distante dalla palla 15 30 uuuh bravo stavolta napolitano 30 pari ci fa vedere che anche lui gioca bene picchiamo subito qua si può picchiare un pochino bella roba lo buttiamo in fondo al campo si sbilancia 30 40 palla break di nuovo ragazzi subito in apertura di secondo 7 qua pesca una bella linea sul servizio e un bel nastro anche dopo e di nuovo ma vai a quei paesi napolitano con tutto il rispetto 40 fari due nastri di fila è incredibile non si vedono spesso nel tennis sta giocando aggressivo sta giocando veramente aggressivo non si prende neanche questa vantaggio napolitano bravissimo comunque da applausi perché ha giocato veramente un bello scambio dritto lungo linea dritto a incrociare viene avanti a rete voler perfetta ragazzi voler perfetta napolitano in vantaggio dobbiamo forse picchiare un pochino di più per metterlo in crisi non serve non c'è il break dunque 1 a 0 napolitano servizio cingomba buono qua si pesca una bella riga servizio dritto vincente 15 0 bella roba bella bella roba qua il nastro purtroppo non ci aiuta seconda di servizio proviamola in top spin facciamo alzare un po' la palla mi è quasi piaciuta napolitano ho visto la risposta vai cingommino vai cingommino 30 a 0 bella roba ragazzi 30 a 0 buu per poco non si sbagliava ma rimane in campo non ci credo 30 15 che schifo ragazzi perché schifo veramente 30 15 brutta prima di servizio questa qua secondo servizio ad uscire dal centro prendiamoci la calma prendiamoci la calma ecco questo non ci voleva 30 pari stiamo calmi ma si rischia di fare il patatrack veramente la set point napolitano cavoli cavoletti ragazzi usciamo subito da questo set point se possibile in maniera vincente anche ma la vedo dura la vedo dura non ci credo non ci credo di nuovo cingomma cade nell'errore di cantare vittoria troppo presto e si ritrova in una brutta posizione in una brutta posizione ragazzi un set pari dunque un set pari un non modesto cingomma all'inizio del secondo set ha detto sarebbe buono per il nostro morale vincere il 7 2 a 0 secco e invece napolitano ci ha reso il cioè ci ha reso il favore ce l'ha sbattuto lì lui invece un secco 2 a 0 comunque non cala la nostra prima di servizio la nostra percentuale sono aumentati di due vincenti e di quattro i gratuiti quindi paradossalmente meglio il secondo set che il primo riguarda i nostri errori perché prima erano 45 errori adesso siamo a 9 il problema è che dopo i 5 vincenti del primo set nel secondo set ne abbiamo fatti solamente due solamente due questo ci ha pesato tanto e invece suoi sono aumentati sono aumentati di quattro ragazzi e sono calati gli errori perché ne aveva 7 adesso ne ha 12 quindi nel secondo set ne ha fatti solo 5 si riparte dal terzo ed ultimo set quello decisivo quello che conta vediamo un po ragazzi la dobbiamo spuntare perché insomma almeno questo torneo vorrei arrivare in finale visto che insomma è un 80 punti challenger ce la meritiamo direi alla finale sarebbe proprio alla nostra portata alla grande quindi va fatta per forza 0 15 intanto doppio fallo di napolitano è nel challenge qua ma ha ragione il giudice di linea quindi è fuori seconda di servizio a no doppio fallo 0 30 ragazzi 0 30 incredibile ha fatto due doppi falli di fila o mi sembra a me no 1 era un doppio fallo scusate 15 30 sono perso qualcosa allora forse nel chiacchierare 15 30 dunque ma va bene così l'importante è che siano stati punti nostri questo passa 15 40 adesso sono due le palle break due le palle break ecco andato via velocemente questo game ci abbiamo capito poco fra tutti insomma va bene così magari ci riguardiamo il video per capire meglio seconda di servizio subito aggressivo cingomma ancora peccato troppo bassa troppo bassa e cingomma non baciù con le gambe 30 40 annulla il primo break con una prima palla break volevo dire napolitano ragazzi scusate buono buono il naso la ferma e c'è il break ragazzi ci abbiamo il break 1 0 5 in gomma si va a servire per il match buona la prima prendiamo per poco ma la prendiamo questa però purtroppo va in rete 0 15 chiudiamolo bello no non l'ha chiuso cavolo va bene non è andata fuori 15 pari a brutto servizio bruttissimo servizio ma 15 30 incredibile questo cingomma non vuole chiudere il match proprio oggi che chiamo un pochino anche noi proviamoci almeno siamo un po in difficoltà no lo sapevo lo sapevo incredibile 15 42 palle del controvdeck napolitano questa cosa non va affatto bene ragazzi va affatto bene prendiamo un challenger per rimettere a posto le nostre idee anche se ovviamente era fuori oh mamma 15 40 seconda di servizio ragazzi un bel servizio però annulla la prima pala break nooo non ci credo ragazzi lunga c'è il controvdeck 1 fari dunque non ci credo non si vuole andare avanti napolitano non molla ecco la rete ecco il lob aia l'apriglia e lo sapevo 15 0 abbiamo giocato malissimo ragazzi si rischia di andare a casa subito anche ad alessandria per degli errori di sottovalutazione diciamo di poca modestia di poca umiltà in campo da parte di cingomba pecca un po di di pavoneggiamento come cavolo si dice insomma di di esuberanza non lo so neanche io 30 0 a due punti dal metterci in condizione di andare a giocare il tie break se vogliamo vincere ragazzi napolitano purtroppo cingomba è un ragazzo giovane alle volte si lascia prendere dalla vittoria dai punti che fa bene e quindi ci rimette ragazzi ci rimette 40 a 0 adesso poi si deve concentrare perché è 40 a 0 meno male qui sbaglia napolitano proviamo a concentrarci un attimo 40 a 15 buono 40 a 30 brutta volè brutta volè brutta volè di napolitano questo va bene per noi va 2 a 1 quindi siamo costretti a tenere il servizio e poi giocarcela al tie break se vogliamo vincere il match ragazzi è andata così che si parte subito con un bel doppio fallo il secondo del match non è buono questo non è buono non è bello meno male va lunga questa 15 pari non ci credo 15 30 è a due punti dal match adesso napolitano brutta storia per cingomma meno male 30 pari meno male 30 pari dai rovescio questo guardiamoci replay di facciamoci un po' le idee stiamo calmi 30 pari brutta storia dove ce la mette buono buono 40 a 30 e bravo cingomma no si si va bene va bene ragazzi bravo cingomma bravissimo due pari si va al tie break ci giochiamo tutto qua tutto al tie break ragazzi tutto qua si fa subito una brutta errore 1 a 0 napolitano quindi avanti subito lui ah che errore che erroraccio 2 a 0 brutta storia avanti di un mini break da foliteano brutta roba veramente meno male 2 a 1 almeno questo lo facciamo buono vediamo un po quello che succede adesso dobbiamo stare calmi e giocare tranquillamente la prendiamo si buono l'errore 2 pari si rimette in pari i conti ragazzi si riporta la situazione in parità in questo tabbra qui ci vuole il lob ma la piglierà buono li prendiamo entrambi i servizi ragazzi 3 a 2 buono adesso concentrazione al massimo tutto passa da questi scambi smorziamo i tempi con un challenger visto che lo abbiamo purtroppo vabbè era fuori era lunga ma il challenger ci voleva 3 a 2 si riparte con la seconda di servizio e allora vai ma non ci credo in quel nastro cavoloso di 3 pari peccato ragazzi il nastro cavoloso giriamo sul 3 pari buono 4 a 3 ma 4 pari brutta questa qui brutta storia questa non ci voleva sarebbe buono fare questo punto ragazzi sarebbe veramente buono ma non lo facciamo 5 4 brutta storia buono 5 pari buono 5 pari no eh lo sapevo ragazzi il match point napolitano è sul servizio incredibile incredibile rischiamo di perdere anche questa partita ragazzi incredibile meno male mamma mia che ance ragazzi mamma mia che ansia che ansia 6 pari si gira di nuovo ragazzi buono 7-6 non so che cosa è uscito fuori in quel tiro non lo voglio neanche sapere è stato buono aver preso quella cavolo di voler che ci ha fatto ragazzi l'abbiamo presa bene poi qui non so che è uscito fuori va bene così 7-6 match point 25 in gomma finalmente sfruttiamolo speriamo di farcela sul nostro servizio uh bravo che fiammata mamma mia di nuovo parità ragazzi 7 pari è incredibile peccato qua forse ho sbagliato a fare la palla corta è uscita anche male tra l'altro e qua mi ha schiacciato bene 7 pari si ripete la prima fortunatamente purtroppo non entra seconda di servizio non ci credo di nuovo match point napolitano ragazzi brutta storia 8 pari 8 pari che rischio 8 pari che rischio meno male che era fuori 9 pari rinnovo il contropiede si riprende il match point il terzo match point 9-8 ragazzi si è incavolato tutto in un colpo napolitano buono 9 pari si annulla così il match point si rigira campo e via si riparte subito questo è bello picchiaci in gomma bene non molla comunque napolitano non molla mai buono 10-9 match point ci in gomma stavolta di nuovo ragazzi dai dai ce la possiamo fare eccolo forse in lungolinea e in quale maniera c'è in gomma si prende il match point se lo porta a casa se lo conquista e si avanza guardate con che razza di lungolinea ha voluto vincere c'è in gomma ragazzi si era stufato e la piazza l'ha imprendibile boom con il lungolinea vincente c'è in gomma ragazzi in una partita difficile difficile avanza vince e si va al secondo turno del torneo di Alessandria ragazzi si va nel secondo turno e saremo contro Donati quindi mi sa che c'è un altro derby ragazzi incredibile andiamo a vedere c'è un altro derby con Matteo Donati incredibile derby nel primo turno derby nel secondo turno ok il terzo dei quarti finali poi no saranno Rambo Glasspool sempre che avanziamo ma ragazzi che match che è stato che match veramente un bel match ragazzi veramente un bel match quindi io vi saluto qua andiamo a riposarci per fare poi il prossimo match contro Donati nel prossimo video vi ringrazio di essere stati con me scusate per l'inconveniente dei primi 2-3 minuti di video senza la mia voce e niente ragazzi vi ringrazio se vi va iscrivetevi al canale mi raccomando restate connessi perché c'è in gomma ci ha fatto vedere che vuole vincere difficilmente insomma duramente ma vuole vincere grazie di nuovo ci vediamo come sempre nei prossimi video ciao ciao